ventitresimo canto del paradiso della divina commedia facile facile per voi allora questo è un canto che direi molto luminoso è molto anche molto importante perché dante incontra delle personalità abbastanza importanti incontra gesù cristo incontra la madonna e nel finale incontra si chiuderà il canto con l'incontro con san pietro quindi negli incontri abbastanza importanti allora il canto si apre siamo nel cielo delle stelle fisse e il canto si apre con beatrice che sta guardando dritta davanti a sé all'orizzonte dante ci dice lì dove sembra che il sole si muova più lentamente ecco quindi all'orizzonte sta guardando dritta davanti a sé come se stesse aspettando qualcuno e dante fa una similitudine molto poetica ci dice appunto che gli fa venire in mente questo atteggiamento di beatrice un uccello un uccellino che posto sul ramo di un di un albero di notte poco prima che sta albeggiando appunto sta aspettando l'alba per poter cominciare ad andare in volo per procacciarsi il cibo da dare ai suoi ai suoi piccoli che si trovano nel nito quindi con questa immagine molto tenera molto poetica dante ci fa ci vuol far capire come sta aspettando beatrice e lui è curioso di sapere chi sta aspettando beatrice ovviamente ma non glielo chiede perché sa che non passerà tanto tempo per avere questa risposta e infatti così è dopo poco tempo finalmente beatrice dante vede che il cielo comincia a schiarirsi comincia ad illuminarsi sempre di più e beatrice a questo punto dice ecco gesù cristo trionfante ecco ecco il cristo trionfante con la schiera dei beati di questo cielo con tutti i beati di questo cielo e mentre lo dice beatrice il volto di beatrice è pieno si accende d'amore di carità per questa visione e dante ci dice che di una bellezza indescrivibile infatti rinuncia a descrivere con parole umane la bellezza che sta vedendo nel volto di beatrice e quindi si gira a guardare quello che beatrice ha indicato e appunto vede una luce abbastanza grande con tantissime una miriade di altre luci intorno che sembrano essere illuminate da questa luce molto grande dante ci dice come quando in una notte di luna piena le stelle sono più luminescenti perché la luna appunto con la sua luce illumina anche le stelle la volta celeste quindi vede avanzare questa schiera e dentro questa luce grande questa luce grandissima vede appunto riconosce perfettamente la figura del cristo e succede qualcosa di molto particolare cioè dante ha un'esperienza extra corporea un'esperienza mistica ci dice che la sua mente si comporta in modo innaturale come quando un fulmine scende sulla terra il fulmine si pensava all'epoca che erano fatti di fuoco quindi il fuoco naturalmente tende a salire dal basso in alto quando invece scende un fulmine scende dall'alto in basso quindi si comporta in modo il fuoco si comporta in modo innaturale in quel caso ecco anche la sua mente si comporta in modo innaturale e appunto dante ci dice che esce da se stessa quindi la dante ha quasi una un'esperienza extra corporea la sua mente esce da se stessa però dante non riesce a ricordare che cosa succede in quel frangente che cosa fa la sua mente fuori da se stessa quindi ci dice appunto che non può dircelo non se lo ricorda e a un certo punto mentre sta vivendo questa esperienza beatrice lo richiama a sé dicendogli quello è gesù quello appunto gli dice quello è gesù cristo è colui che ha permesso con la sua morte di riaprire la strada tra terra e cielo quindi gli dice che la visione che tu hai visto adesso è la più forte visione che si possa avere e quindi da adesso in poi puoi tranquillamente vedere tutte le cose del paradiso compreso il mio sorriso senza appunto rischiare di essere incenerito a questo punto dante si gira verso beatrice tentando di ricordare che cosa appena visto ma non non se lo ricorda proprio quindi diciamo è un po smarrito da questa situazione però beatrice sorride a questo punto dante può vedere il sorriso di beatrice dante ci dice questo sì che non me lo dimenticherò mai rimarrà impresso nella mia mente però comunque sia dante dice che anche tutte le muse della poesia dice polomia e le sue sorelle cioè tutte le muse della poesia lo aiutassero nell'impresa di descrivere accuratamente e fedelmente la bellezza del sorriso di beatrice dante dice io non riuscirei neanche a descrivere la millesima parte di quello che ho visto e continua dicendo che appunto la sua poesia il suo poema da qui in poi deve saltare delle cose deve omettere saltare delle cose perché non non ci sono proprio gli strumenti umani per poter descrivere tutta la bellezza che sta vedendo e chiede quasi scusa al lettore dante dicendogli appunto che lui si è caricato l'omero che si è caricato tanto peso cioè l'omero è la parte del braccio che dante usa per scrivere che si è caricato tanto peso sta compiendo un'impresa meravigliosa cioè nel senso sta navigando dice tante sta navigando per un mare molto impegnativo dove ci vuole un timoniere sempre attento quindi tante ci dice comunque ce la metterà tutta per ce la metterà tutta per per rendere più fede più fedele possibile ciò che lui ha visto quindi detto ciò appunto che non può descrivere il sorriso di beatrice comunque rimane incantato dalla bellezza di questo sorriso e continua a guardarlo a questo punto beatrice dice a dante non guardare me guarda la bellezza di questo cielo delle stelle fisse guarda sembra un prato dove appunto c'è la il fiore più bello è appunto il fiore dove germogliato dove è nato il ventre appunto dove è nato gesù cristo cioè quindi la luce più bella è la luce di maria la vergine maria ora si trova lì davanti a dante ecco e poi ci sono tutti gli altri fiori intorno a lei che hanno permesso quindi di al verbo di cristo di andare in giro quindi c'è maria che ha permesso a cristo di farsi carne e a dio di farsi carne e tutti e gli apostoli vicino a lei che hanno contribuito ad espandere il verbo del cristo quindi dante si gira per vedere ed effettivamente vede uno spettacolo meraviglioso vede appunto come un prato con tanti fiori e tutti questi fiori sono illuminati da un sole che dante ci dice come quando il sole filtra tra la luce il sole filtra tra le nubi e illumina i fiori di un prato ecco allo stesso modo queste luci queste anime sembrano dei fiori illuminate da una luce che sta sopra infatti dante ci dice che gesù cristo si è levato in alto quindi è andato in alto per permettere agli occhi di dante di per poter vedere appunto tutte le altre luci altrimenti la luce del cristo avrebbe oscurato diciamo così le altre non avrebbe permesso agli occhi di dante umani di vedere le altre luci quindi cristo si è levato in alto e dante può vedere tutte le altre luci e appunto dice che al centro di questo prato di questo giardino diciamo così c'è appunto colei al quale lui mattina e sera del quale lui mattina e sera invoca il nome cioè appunto la vergine maria e mentre sta guardando la figura della vergine maria scende dal cielo un'altra luce questa si comporta in modo diverso rotea quindi forma quasi una corona questo è l'arcangelo gabriele appunto questa corona scende e va appunto a incoronare la luce della madonna e dice appunto lo fa con un canto meraviglioso dante ci dice che la più bella melodia che si possa ascoltare sulla terra in confronto sembrerebbe il rombo di un tuono quindi una melodia meravigliosa quindi questo è l'arcangelo gabriele va a circondare diciamo così incoronare la vergine maria e appunto facendolo dice appunto che lui ama sconsideravolmente ama totalmente la vergine maria perché tramite lei lei ha permesso a cristo di diventare carne e dice appunto che continuerà a circondarla in questo modo finché lei non tornerà insieme a suo figlio nell'empirio rendendolo più bello di quanto già è bello ora l'empirio è l'ultimo dei cieli il cielo dove si trova dio è un cielo meraviglioso ma la presenza della madonna lo fa diventare ancora più bello detto ciò tutte le anime intorno intonano il nome di maria a questo punto la vergine maria comincia la sua ascesa insieme al cristo cominciano questa ascesa verso l'empireo appunto lei circondata dalla corona che forma l'arcangelo gabriele girando gli intorno quindi cominciano a salire su per l'empirio e dante ci dice tutte le anime che si trovano lì nel nel cielo delle stelle fisse rimangono lì ma diciamo le loro luci si allungano si protagono verso appunto la madonna che sta salendo in alto quindi è un'immagine veramente molto bella molto luminosa dovete immaginarla così in questo modo e praticamente dante fa l'esempio dice gli fa venire in mente il comportamento di queste anime quando un bimbo è stato appena allattato e per ringraziare la mamma che lo ha nutrito allunga le braccia per abbracciarla ecco è un'immagine molto tenera e mentre appunto fanno questa cosa tutte intonano il regina dei cieli regina coeli e appunto detto ciò dante rimane a guardare queste anime ci dice che queste anime sono le anime che in terra si sono comportati in un modo esemplare tanto da meritarsi ora questo questo cielo del paradiso e ci dice che tra tutte queste anime c'è anche l'anima di colui al quale gesù cristo ha dato le chiavi del paradiso quindi l'anima di san pietro e con questa presentazione sommaria di san pietro si chiude questo bellissimo ventitresimo canto del paradiso